E' confusione, sarà perché chiamo, è un'emozione, è stare piano piano, 12 di morte, è sempre 12, è vita e santa, è un po' di luce, è un po' di luce. Ed ora è il momento di avere la vostra voce in un solo cuore, perché è il momento della formazione dei, con il numero 16, Mari, con il numero 2, il capitano Davide, con il numero uno, per la prima volta Ruben, con il numero 9, Poligie, con il numero 10, Profan, con il numero uno, per la prima volta, Cristian, con il numero 14, DJ, con il numero 13, con il numero uno, per la prima volta, Ruben, con il numero 13, Ruben, 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 a disposizione del uno, per la prima volta, se non si può, è una cosa, se non si può, è un po' di luce, e un po' di luce, è un po' di luce, questo è un po' di luce, quindi è una cosa, è un po' di luce, Grazie a tutti, grazie a tutti.